Il Signore Gesù disse fatevi coraggio io ho vinto il mondo quindi ciò che abbiamo parlato che la fede è fondata nei comandamenti, nelle promesse lei è coraggiosa lei va con tutto lei non si tira indietro, lei non si intimidisce, lei non dubita lei non si sente inferiore lei dice ecco me e io vado perché Dio è con me e io vincerò per la sua gloria perché fu Lui che comandò per concludere il Signore Gesù è fantisa anche il Reino dei Cieli è preso a forza e i violenti se ne impadroniscono il Reino di Dio è per tutti Dio vuole che tutti entrino nel suo regno, sì o no? sì, ma Lui dice che il Regno dei Cieli è preso solo a forza sforzati qualcuno dirà Vescovo sono stanco di sforzarmi aspetta un attimo aspetta un attimo un attimo per favore cosa hai detto? puoi ripetere? perché sto ascoltando alcune persone dicendo Vescovo sono stanco di sforzarmi davvero? tu puoi essere stanco di sforzarti per gli altri che nemmeno ti dicono grazie ma dubito che qualcuno dica che è stanco di sforzarsi per Dio, per la fede, per le cose di Dio e non essere onorato e non essere benedetto e non essere esaudito Dio non deve nulla a nessuno la sua parola è infallibile è immutabile è impossibile che lei ritorni a Dio vuota se non ci sforziamo e facciamo la nostra parte Lui fa la sua ma Dio inizia la sua parte quando la mia e la tua è conclusa non pensare io inizierò la mia parte Dio inizierà con me no Dio non è così Dio aspetta prima che tu finisca la tua per poi Lui iniziare la sua ad esempio dei miracoli che ha fatto i dieci leprosi curaci signore e Gesù siate guarite è stato così? no vai al tempio ma la legge diceva che i leprosi non potevano neanche camminare per la strada se un leproso era trovato per la strada era lapidato era condannato a morte immagina entrare nella città è proibito immagina entrare nel tempio che si trova nel centro della città era un suicidio ciò che Gesù disse a loro andate preparatevi al sacerdote e addirittura portate l'offerta di purificazione il nostro Dio esigente sì o no? sì o no? perché Lui ci vuole dare il meglio Lui non voleva solo curare Lui voleva salvare ma loro dovevano affrontare la paura dovevano affrontare i dubbi le domande perché come mai perché non ci guarisce qui adesso loro hanno dovuto prendere la strada tu e Dio dobbiamo prendere la strada la strada della fede tu devi vincere la paura devi resistere i sentimenti i pensieri che provano a toglierti da questa strada entra entra a Gerusalemme in altre parole entra nella fede entra in chiesa ma non accontentarti di essere in chiesa vai al tempio vai in mezzo al tempio presente la tua offerta e quando loro se ne sono accorti erano puliti è questo che fa il nostro Dio quando noi assumiamo la nostra fede quando noi ci sforziamo allora ci impadroniamo del suo regno amè? del suo regno sulla terra e nel suo regno nel cielo il regno di Dio e il regno dei cieli dopo la morte opera completa il egno di Dio ma in il thema no va e il